Loretto! Loretto! Buongiorno! Loretto! Buongiorno! Quanto costa? Loretto è una ara! Loretto costa 2.000 euro! 2.000 euro? Mamma mia! E perché costa 2.000 euro? Costa tanti soldi perché Loretto parla francese! Eh ma è troppo! Troppo! Non ne tenete qualcun altro? Vediamo quest'altro qua! Questo verde! Venite venite con me! Eh bello questo qua verde! Ferdinando si chiama Ferdinando! Ferdinando! E che prezzo fa questo? Ferdinando costa 4.000 euro! 4.000 euro? Eh si! Mamma mia! E perché costa tutti questi soldi? Eh perché chi lo parla francese! Ferdinando parla francese, inglese, benissimo! Eh bello eh! Però costa troppo! No è troppo! È troppo! Ah scusa! Guardate! Guardateci qui tu là! Quello là che prezzo fa? Andiamola a vedere da vicino! Si chiama Raffaniello! È bello però! E quanto viene questo? Quanto costa? Raffaniello costa 5.000 euro! 10 milioni della vecchia lira! Niente a me! E quanta lingua parla? Guardate la verità propria! In un laggiamento si parla! Eh bello! Però chi là di tu io chiamano o professor!